Giovanni Orsini, Will regionale, quali sono i motivi di questa manifestazione del 19 maggio a Roma? Noi pensionati abbiamo una cosa da rivendicare, i nostri diritti e la nostra dignità. Questo governo la calpesta, la calpestate e si guiderà a calpestarla. Vedete quello che sta succedendo sulla riforma della legge Monti-Fornero? Tutti quanti dicono che la vogliono cambiare e nessuno la cambia. Purtroppo per voi giovani e per i giovani sarà dura perché non avranno né un futuro lavorativo ma nemmeno un futuro previdenziale. Quindi noi lavoriamo per questo, andiamo in piazza, circa 1.100-1.200 pensionati d'Abruzzo, 23-24 pullman per rivendicare queste cose. 360.000 circa pensionati che ci sono nella nostra regione, dell'Inps possiamo dire che l'80% sono pensioni al minimo, per non parlare quelle anche al di sotto, degli assegni sociali e quant'altro. Quindi noi nella manifestazione vogliamo ribadire la necessità di un intervento forte per rimettere al centro il problema della dignità dei lavoratori pensionati e dei pensionati perché questa crisi, tra le cose che ha prodotto, ha prodotto un grande impoverimento e un grande disagio sociale a cui bisogna fare assolutamente dare rimedio. E' importante questa manifestazione unitaria perché ci permette di poter riprendere un dialogo forte non solo tra di noi ma soprattutto nelle parti sociali con il governo affinché il governo decida finalmente di ascoltarci e di trattare, di riprendere un tavolo di trattative che noi in questi ultimi mesi non abbiamo avuto. Della legge Fornero deve essere cambiata, non è più possibile pensare che si vale in pensione a 70 anni e i nostri giovani saranno sempre disoccupati se le pensioni continuano ad essere così alte.